In ritardo Regini, Rispoli al cross, interessante per Nestorowski, poi Balog nell'anticipo, calcio di rigore. Fallo di Berezinski su Balog, calcio di rigore per il Palermo. Alla fine va Nestorowski, con il sinistro, conclusione centrale, e avanti il Palermo con il decimo gol nel campionato di Nestorowski. E' un gol molto importante per il Palermo, che sblocca un match complicato per Berezinski, colpisce Balog, poi Nestorowski sceglie la conclusione centrale.